Ecco la MSC Vita, l'unità full container della Mediterranean Shipping Co. è entrata nel porto di Livorno lunedì mattina ormeggiando al terminal Lorenzini. Questa è la nave con maggior capienza di contenitori, ben 8.819, e arrivata nello scalo labronico. In impegnative le operazioni di ingresso e di ormeggio, l'unità della compagnia di Aponte ha imboccato il porto alle 9.45 e alle 11.00 poteva già iniziare le operazioni di imbarco a Banchina. L'unità è stata costruita nel 2015 a una stazza lorda di 95.500 tonnellate, una lunghezza di 300 metri e una larghezza di oltre 48 con un pescaggio di circa 10 metri. Ed è stata proprio la larghezza che ha rallentato l'ingresso, anche se i piloti sono stati abilissimi. In alcuni scali marittimi italiani si lavorano cellulari che trasportano anche 14.000 teuve di Trieste, Genova, Venezia, Gioia Tauro. Perché Livorno abbia un futuro nel servizio dei contenitori, è urgente il trasferimento a mare dello scalo e la piattaforma Europa ormai è più che una necessità. La MSC Vita effettua una relazione di traffico dall'Italia per i porti del Sud America. Accetta infatti merce per gli scali brasiliani di Rio de Janeiro, Santos, Vittoria Rio Grande, Salvador Bahia, Suape, Manaus e Via Doconde. In Uruguay scalerà Montevideo, in Paraguay, Puerto, Seguro, Fluvial, Assunzione, Pilar e in Argentina, Buenos Aires. Le unità della Mediterraneo Shipping Co. sono rappresentate a Livorno ad all'Agenzia Marittima Spadoni.